Buongiorno, ben arrivati, io sono Gianfranco Andriola, vi parlo da Formets.pia, ente per il quale lavoro e che in qualche modo in questa settimana sta supportando il divertimento della funzione pubblica per l'organizzazione e tutte le attività che riguardano la settimana dell'amministrazione aperta. Buongiorno a tutte le persone che stanno scrivendo, buongiorno, nessuno lamenta problemi di audio e video, quindi mi pare che ci sentiate e ci vedete benissimo, o per il momento mi sentite e mi vedete benissimo. Chiacchieravamo in chat prima che questo seminario si aprisse, oggi ci siete iscritti in quasi 600, quindi ci aspettiamo 300 persone, le 157 che sono già entrate in aula sono state puntualissime e vi ringrazio. Io cercherò di andare rapidissimo nella mia introduzione, un po' perché abbiamo molti interventi interessanti subito dopo di me, quindi non voglio davvero rubare spazio, un po' perché mi pare di aver capito che molte delle persone che sono qui oggi ci hanno seguito nei webinar precedenti, quindi non vorrei tornare ad ammorbarvi con la solita introduzione. Ci andrò rapidissimo, semplicemente per dirvi che come ormai certamente sapete, questa settimana è iniziata la settimana dell'amministrazione aperta, è un'iniziativa che nasce dentro l'ombrello di Open Government Partnership, un'iniziativa internazionale che in Italia viene condotta da più di qualche anno dal Dipartimento della Funzione Pubblica e sostanzialmente chiede alle pubbliche amministrazioni di impegnarsi attraverso delle iniziative concrete rispetto ai temi del governo aperto, partecipazione, trasparenza e contabilità, innovazione digitale è molto ampio, l'idea dei webinar di questi giorni era proprio dare consapevolezza rispetto a quanto ampi siano i temi del trattato di Open Government Partnership e dall'imminente pubblicazione del prossimo piano GP e dare un minimo di idea di quello che sta avvenendo e di quello che avverrà nei prossimi anni rispetto ai temi trattati dal piano. La settimana dell'amministrazione aperta ha una sorta di hub, di punto di convergenza su cui tutte le pubbliche amministrazioni riversano le informazioni delle iniziative che stanno organizzando, è questa pagina qui, opengov.it slash sa, trovate questa mappa dinamica con una serie di geolocalizzazioni rispetto agli eventi che ci sono, ne approfitto per dirvi che c'è un elemento strano nel senso che voi trovate geolocalizzati anche i webinar che poi di fatto non hanno una referenza fisica, di fatto se avvengono online, però comunque più o meno potete avere un'idea di come le pubbliche amministrazioni italiane si stiano impegnando rispetto a organizzare eventi e a promuovere iniziative su questi giorni. La slide che vedete colpa mia non è aggiornata perché in questo momento ci sono 340 eventi, in realtà ce ne sono di più, siamo quasi a 360, credo che sia la settimana dell'amministrazione aperta più partecipata, questa è la terza edizione e ogni anno continua a crescere ed è una cosa che ci fa davvero molto piacere. Ci fa altrettanto piacere che questa iniziativa che è iniziata in Italia tre anni fa, della settimana dell'amministrazione aperta abbia funzionato così bene, sia piaciuta così tanto Open Government Partnership internazionale da replicarla a livello globale, quindi in questa stessa settimana in tutti i paesi che vedete illuminati in questa mappa sta avendo qualcosa del tutto simile a quello che viene in Italia, organizzazioni della società civile, pubblica amministrazione, spesso entrambe in collaborazione propongono eventi sui temi del governo aperto, anzi credo che l'Open and Go Week abbia una caratterizzazione più specifica sulle minoranze, sul modo in cui dare visibilità, dare spazio e dare nuovi diritti alle minoranze in giro per il mondo. È particolarmente interessante navigare questa mappa perché vi dà la dimensione di come poi paesi diversi, pubblica amministrazione diverse, declinino il tema del governo aperto in modo diverso, in modo proprio, è interessante e giusto anche solo da navigare. Tra le iniziative promosse dal Dipartimento della Funzione Pubblica, lanciate in questi giorni, nei giorni della settimana dell'amministrazione aperta e nell'ambito di Open Government Partnership, vi parlo rapidissimamente del premio Open Gov Champion, la terza edizione del 2019 che in quest'anno è dedicata alle pubbliche amministrazioni, quindi lo dico soprattutto per chi di voi lavora in una pubblica amministrazione e volesse provare a candidare la propria iniziativa attinente ai temi del governo aperto al premio Open Gov Champions, lo può fare, lo può fare da questa pagina qui, stesso sito slash premio. Invece credo che la cosa più notevole, la cosa a cui dare massima visibilità in questo momento rispetto ai temi di Open Government Partnership sia l'imminentissimo, viene lanciato domani il prossimo piano nazionale d'azione per l'Open Government 2019-2021, nella migliore tradizione di Open Government Partnership e facendo propri i principi del governo aperto, il piano viene esposto a consultazione chiaramente prima di essere, di diventare definitivo. Ed è su questo che mi piacerebbe, magari ve lo ricordo adesso e torno a ricordarvelo a conclusione del webinar ed è proprio su questo che mi piacerebbe concentrare l'attenzione di questi primi minuti, perché al di là del fatto che è un esempio di partecipazione pubblica, quindi uno dei temi cari OGP, ne abbiamo parlato ieri tra gli altri con Salvatore Marras e Fede di Congalè nel webinar di ieri, che ci hanno raccontato un po' meglio quali sono nell'interno del piano le iniziative riguardano la partecipazione e la partecipazione online. Questo piano a sua volta viene esposto, come vi dicevo, a consultazione prima di essere approvato, quindi vi chiederei di darci uno sguardo domani nel momento in cui viene pubblicato, certamente di provare a darci una letta e se vi va, se avete voglia, se avete dei contributi interessanti, di provare a partecipare alla consultazione. La consultazione certamente verrà su un sistema che si chiama commentario, quindi il testo del piano sarà possibile commentare i singoli che può versi del testo e l'ambizione è quella di arrivare a una versione definitiva del piano, solida, che acquisisca tutti i contributi delle persone che decideranno di spendere qualche minuto per migliorare questo piano, è una sorta di ipotesi di coprogettazione di una politica pubblica. Questa è un po' l'ambizione che si pone il Open Government Partnership con la consultazione pubblica e quindi davvero vi chiederei domani di darci uno sguardo. Chiedo che ormai lo sappiate, in questa settimana abbiamo pensato, come vi dicevo all'inizio, di raccontare l'imminente prossimo piano d'azione nazionale per l'Open Government attraverso quattro webinar, abbiamo iniziato lunedì con l'introduzione generale sul piano, abbiamo proseguito martedì con Trasparenza Open Data, partecipazione al Contability è stato il tema di ieri e oggi invece parliamo di cittadinanza e competenze digitali. Ne approfitto anche per ricordarvi, oggi abbiamo tra gli altri dei relatrici di questo webinar, Daniele Intravaia e volevo semplicemente, magari Daniele accennerà certamente meglio nel prossimo intervento che avanti ieri sera credo, è stato pubblicato il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione che coincide con lo stesso triennio di implementazione del piano GP e ovviamente ci sono mille punti di congiunzione tra quello che è il piano per l'Open Government e il piano per l'informatica, il piano triennale per l'informatica nella PIA, è un ottimo motivo per darci un'occhiata e certamente come immagino abbiate visto se siete iscritti alla piattaforma Eventi PIA molti, molti webinar in questo periodo sono anche orientati verso i temi presidiati da Agid e contenuti all'interno di questo piano, quindi pensavo fosse doveroso, necessario e assolutamente utile fare un accenno a questa novità del piano triennale. Venendo invece al webinar di oggi, ve l'ho più o meno già accennato, Daniele Intravaia ci racconta la cittadinanza dei servizi digitali, Agid partecipa direttamente al piano triennale OGP e quindi Daniele ci fa capire un po' meglio come funziona questo tema all'interno del piano. Valentino Albano del Dipartimento della Funzione Pubblica che ringrazio due volte, è la seconda volta che è qui con noi in un webinar dedicato al prossimo piano d'azione, ci racconta invece il tema delle competenze digitali e del syllabus che è un documento che a sua volta ha avuto un momento di partecipazione di contributi da parte dell'esterno, poi Valentino ce lo racconta un po' meglio. Chiudiamo con Daniele Avellutino dell'Università di Salerno che fa parte dell'Open Government Forum, è una cosa che ci tenevamo molto a portare avanti durante questi webinar, nel primo webinar, quello di lunedì abbiamo avuto l'intervento di Isabella More di Cittadinanza Attiva, ieri Federico Anghelè di Riparto il Futuro e oggi Daniele Avellutino, sono tutti a tre parte da più di qualche anno con le rispettive organizzazioni dell'Open Government Forum che è un po' quell'insieme di soggetti che non sono pubblica amministrazione ma che affiancano e si confrontano con la pubblica amministrazione sulla progettazione, sull'implementazione e sull'analisi dei risultati del piano GP. Solo priva di passare la parola a Daniela in Travaia di Agid, vi ricordo semplicemente che su questa pagina, che è la stessa pagina con i visiti iscritti, più o meno mezza mattinata troverete le slide dei nostri relatori in formato PDF e nel primo pomeriggio credo troverete anche la registrazione integrale del webinar di oggi, così come già ci trovate tutte le registrazioni dei webinar precedenti, vi dico per chi magari vi dico per chi è realizzato l'opera del webinar? Vi dico per chi è realizzato la pubblica amministrazione di cui abbiamo chiesto di e poi io adesso vi chiedo che avviciniamo con la pubblica di segnale del video, che abbiamo e poi noi abbiamo i diritti e già ne sono dotati dopo la possibilità di un pubblico di volta in perfetta logica di governo aperto, di open access, di open data, di condivisione della conoscenza, tutto quello che produciamo nell'ambito di questi webinar cerchiamo di condividerlo con tutti nel modo migliore possibile. Ultimissima cosa prima di passare la parola a Daniela, la settimana di amministrazione aperta ha una connotazione molto dinamica, nel senso che stanno avvenendo cose e continuano ad avvenire, cerchiamo di dare visibilità a tutto quello che avviene, il mezzo più comodo è il nostro account Twitter, quindi a questo indirizzo, at open.gov.it ci trovate più o meno tutto quello che sta succedendo, cerchiamo come vi dicevo di dare visibilità a più o meno tutto, è il modo migliore per dare visibilità a quello che sta avvenendo. In questo momento, ad esempio, vedete che nello screenshot che ho fatto c'era la stessa Daniela Vellutino che oggi partecipa a questo webinar. Grazie, buongiorno a tutti, Gianfranco ha già detto tutto quello che si poteva dire per introdurre egregiamente questa iniziativa, mi piace solo rimarcare il collegamento con l'iniziativa internazionale di Open Government Partnership, considerato che è in agenzia come primo incarico quello del coordinamento delle attività internazionali, questo respiro che si può dare all'azione amministrativa dei nostri uffici, dei nostri contesti è importantissimo perché ci fa crescere moltissimo. Naturalmente niente sarebbe possibile di ciò se non avessimo il forte protagonismo della funzione pubblica, che è un po' l'amministrazione guida che ci coordina e ha fatto tutta l'attività preparatoria perché si arrivasse a questo, cioè al lancio del piano che come è stato detto sarà disponibile già da domani e alla stessa settimana dell'amministrazione aperta. Cosa significa Open Government? È noto e l'ha detto bene anche Gianfranco, orientamento alla trasparenza, all'apertura dei dati, alla semplificazione. In tutto questo Agid gioca un particolare protagonismo pur essendo coinvolta trasversalmente un po' su tutte le 10 azioni previste, soprattutto sui servizi digitali e poi ha una forte cointeressenza con funzione pubblica che coordina l'azione 10 sulla cittadinanza e le competenze digitali. Naturalmente anche qui è stato citato il piano triennale, per noi è qualcosa che naturalmente non è separato schizofrenicamente da quello che facciamo nell'Open Government Partnership perché costituisce il trasferimento della strategia dell'agenda digitale italiana, quindi la strategia della crescita digitale esistente fino al 2015, rinnovata nel 2016 e che fa da linea guida per le pubbliche amministrazioni per la transizione al digitale e quindi è un'occasione per noi per fare veramente diffusione e passare un po' dalla teoria all'atto di quello che sta scritto nel piano triennale e dove qui vedete richiamati due principi guida che sono quello della reingegnerizzazione dei processi che dovrebbe essere fatta prima della digitalizzazione per essere realmente efficace, ad evitare di trasferire nell'informatizzazione i difetti che possono esistere nei flussi attuali analogici dell'azione amministrativa e poi l'applicazione del principio once only forse doveva essere messo anche per primo, in quanto è una delle fonti di maggiore inefficienza e anche di disturbo per il cittadino e l'impresa, perché è noto a tutti noi, anche quando ci troviamo ad agire come cittadini, che le pubbliche amministrazioni purtroppo ci richiedano continuamente gli stessi dati, informazioni o documenti che già abbiamo fornito magari in altre occasioni o che la pubblica amministrazione già detenga per i propri fini istituzionali. Gli impegni che noi abbiamo nel coordinamento, che noi come agenzia per l'Italia digitale abbiamo assunto nel coordinamento dell'azione 9 che ha ad oggetto i servizi digitali, sono quelli che ci caratterizzano comunque in generale anche come agenzia, cioè sono relativi alla maggiore diffusione possibile dei servizi digitali, sfruttando anche un ruolo che il Ministro per la pubblica amministrazione ha cercato di esaltare, dopo che già era previsto dall'articolo 17 del CAD, quello dei responsabili per la transizione al digitale, che sono un po' dei nostri trade union verso le amministrazioni, in quanto vogliamo che loro esercitino il maggiore protagonismo possibile per accompagnare questi processi di innovazione. Altro aspetto è quello legato alla introduzione o valorizzazione delle ancora poche iniziative che sfruttano le tecnologie emergenti, soprattutto la cosiddetta blockchain e l'intelligenza artificiale, questo per dare anche un respiro aperto al nuovo nell'ambito delle tecnologie e poi un aspetto fondamentale è quello della promozione dei servizi pubblici digitali. Qui trovate una ripresa di questi tre paradigmi con qualche maggiore dettaglio, dove ovviamente questo ruolo di cui vi dicevo del responsabile della transizione al digitale è un punto per noi di riferimento sul quale torneremo sia durante tutta l'attuazione del piano di Open Government, sia durante l'attuazione del piano triennale. Per quanto riguarda le tecnologie emergenti, siamo abbastanza all'inizio come esperienze di pubbliche amministrazioni, il piano di Open Government ci dà modo di fare conoscere queste prime esperienze e di andare a verificarne poi la riusabilità, la replicabilità in ambiti e contesti di pubblica amministrazione simili rispetto a quelli che hanno avviato queste loro azioni. E poi il tema della promozione dei servizi pubblici e digitali che ci porta di nuovo su un contesto internazionale, quello che ci valuta per esempio con il DESI, il famoso indice europeo Digital Economy and Society Index, dove purtroppo come Paese risultiamo al 25esimo posto su 28 Paesi, anche se io lo dico sempre, un po' sono anche gli indicatori che ci penalizzano, ma certamente uno degli aspetti dove noi come Paese risultiamo deboli è quello dell'utilizzo basso da parte dei cittadini, un indice di utilizzo basso che abbiamo rispetto invece a un'offerta che già appare abbastanza buona, almeno sul piano quantitativo di servizi pubblici ai cittadini stessi. Abbiamo formato un catalogo generale dei servizi digitali, qui li vedete elencati e naturalmente è un catalogo aperto, come diceva Gianfranco la prima pubblicazione e divulgazione del piano segue una fase di consultazione che comporterà sicuramente un arricchimento di questo catalogo ed una sua sicura espansione. Io mi sono soffermata nella slide successiva soltanto su alcuni, ma senza che questo significhi una non adeguata valorizzazione di tutte le esperienze, solo per dirvi che sicuramente l'Agid gioca in prima battuta sul piano della promozione dei servizi digitali, coinvolgendo i media e cercando di rendere disponibili alle pubbliche amministrazioni dei kit per produrre comunicazione dei servizi digitali anche personalizzata, fatta in casa. Il Comune di Roma si caratterizza per una forte spinta all'adozione delle piattaforme abilitanti per i servizi dove ancora questi non siano disponibili, mi riferisco a Speed, a Pago.pia e alla stessa anagrafe della popolazione residente. Un'esperienza importante di applicazione di tecnologie emergenti l'abbiamo col MIUR e il Cimea, cioè sulla valorizzazione dei diplomi a livello europeo. Col MAECI c'è un progetto importantissimo per il miglioramento dei servizi ai cittadini italiani all'estero per facilitare la loro adozione di Speed, visto che ci sono ancora delle difficoltà a causa proprio di come i provider, i fornitori del servizio pubblico di identità digitale ancora non si rendono pienamente disponibili all'estero. La Regione Puglia, a seguito dell'accordo quadro con Agid, si pone come soggetto aggregatore territoriale, quindi verso le altre amministrazioni più piccole del territorio, anche lì per favorire l'adesione alle piattaforme abilitanti già citate. Union Camere che cerca di avvicinarsi alle imprese, avvicinarle alle conoscenze digitali e fare in modo che almeno il livello di competenze di base che noi richiediamo anche e cerchiamo di promuovere presso i cittadini, siano anche per le imprese, in particolare per le piccole imprese, un patrimonio acquisito. E poi un altro esempio, ma ripeto senza che i progetti che non richiamo già presenti a catalogo non meritino altrettanta menzione, è quello del Dipartimento Politiche Europee che cercherà di sfruttare al meglio sistemi di traduzione automatica resi disponibili dalla Commissione Europea, il cosiddetto progetto e-translation. La roadmap di Agid che significa prendere a riferimento contenuti che sono presenti nel nostro piano triennale, che in effetti è disponibile, come diceva Gianfranco da un paio di giorni su internet, anche con una guida dinamica che consente di scegliere uno strumento di lettura basato sull'essere cittadino, impresa o pubblica amministrazione, quindi una guida mirata che speriamo possa facilitare anche la produzione di commenti, contributi, aiuti alla attuazione del piano stesso. Qui viene in gioco un'attività di supporto, mi soffermo soprattutto su quello che facciamo verso le pubbliche amministrazioni che sono evidentemente il primo destinatario dell'azione di Agid, ai cittadini e alle imprese arriviamo in via più indiretta proprio attraverso le pubbliche amministrazioni. L'affiancamento non si limita a delle parole ma si sostanzia in supporti che diamo alle pubbliche amministrazioni in termini di servizi, di project management generalizzato e di assistenza a particolari sviluppi come per esempio quello del passaggio al cloud e del consolidamento dei data center, ma ce ne sono anche tanti altri, leggendo il piano li potrete vedere. La visione e il metodo che noi ovviamente portiamo avanti sempre sia nell'attuazione del piano di open government come in quella del piano triennale partono da una visione olistica, quindi da un tentativo di tenere presenti un po' tutti gli aspetti, con un'attenzione rinnovata e rinforzata con la gestione attuale di Agid all'approccio che tenga conto dei diversi target, quindi come detto prima cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni devono ricevere un'attenzione e un tipo di comunicazione, di rapporto, di relazione da costruire diversa, tenendo conto delle loro peculiarità. Naturalmente il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse a secondo del tipo di progetto o di azione e questa consapevolezza crescente sulla necessità di fare diffusione delle competenze digitali, la creazione di una cultura sempre più ricca per tutti i nostri interlocutori sul piano dell'utilizzo degli strumenti digitali. Naturalmente tutto questo si deve tradurre poi in una strategia coerente e in momenti anche di accompagnamento all'attuazione che permettono poi di andare a verificare gli stati di avanzamento sia dell'open government come del piano triennale e allora questo come lo si fa? Con l'introduzione di indicatori che consentiranno di misurare proprio l'avanzamento della crescita digitale dei servizi pubblici del nostro Paese e addirittura tutto questo sarà legato nella fase di monitoraggio alla performance dei dirigenti che saranno valutati anche specificamente sulla capacità che avranno di lanciare e realizzare poi progetti di digitalizzazione dei servizi dei quali siano responsabili. Quindi tutto questo ci deve portare a costruire insieme alle altre amministrazioni evidentemente in un raccordo importante che cerchiamo di realizzare giorno per giorno fra il centro e il territorio, in particolare avendo potenziato il nostro rapporto con gli enti territoriali per prime le regioni ma anche le città metropolitane e i comuni capoluogo delle stesse, realizzare una governance che dia luogo a progetti armonizzati fra di loro, coerenti che consentano veramente di arrivare a una crescita digitale del Paese che si traduce ovviamente anche in crescita economica. Adesso passo all'azione 10 dove noi siamo, dicevo, semplicemente dei portatori d'acqua rispetto al coordinamento che è effettuato dalla funzione pubblica. Però riteniamo molto importante questa nostra partecipazione perché siamo stati anche gli autori delle linee guida sulle competenze digitali e quindi qui parlo un momento delle competenze digitali e annettiamo a questo documento che io invito sempre tutti a leggere, a cercare nel nostro sito, è assolutamente reperibile perché è un po' una summa di quello che dovrebbe svilupparsi a livello proprio di sistema Paese per favorire la crescita delle conoscenze sul piano delle competenze digitali e sono andata al punto 2. Mentre invece sul punto 1 noi cosa facciamo? Cerchiamo di dare attuazione a una parte dell'articolo 17 del CAD, il comma 1 quinquies, che prescrive ad Agid di pubblicare sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali. Di questo parliamo un pochino più in dettaglio con questa slide. Ecco, questo è un discorso molto importante sul quale io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi che ringrazio per essere presenti da remoto a questo webinar, dei colleghi appartenenti alle varie pubbliche amministrazioni. Ora nel momento in cui noi pubblicheremo questa guida sicuramente i cittadini avranno un ulteriore momento di conoscenza dei propri diritti di cittadinanza digitali che li spingerà a richiedere, a esigere da noi poi i corrispondenti servizi. Questo lo dico perché ci attendiamo un impatto forte da questa azione e d'altra parte noi non la possiamo rallentare con l'idea che le amministrazioni potrebbero non essere tutte pronte a fronteggiare queste richieste, altrimenti cadremmo in quel brutto atteggiamento che alcuni definiscono amministrazione difensiva. Quindi su questo il mio è un invito all'essere pronti per usare il vecchio motto degli scout, le stote parati perché effettivamente nel momento in cui noi realizzeremo questa guida che non sarà altro che un richiamo a diritti che sono già tutti presenti, scritti nel CAD, nel codice dell'amministrazione digitale, potrebbe esserci questa intensificazione delle richieste a noi stessi, a tutti, pubblica amministrazione per non dire richiami, reclami al difensore civico che come sapete è incardinato proprio qui nella nostra agenzia per esigere la disponibilità effettiva di questi diritti. Naturalmente a questo accompagniamo anche una proposta di realizzare un servizio civile digitale, troverete i dettagli nel piano. Sulle competenze vi ho già detto qualcosa, nel nuovo piano triennale trovate un riferimento un pochino più dettagliato che qui è stato riportato, vado un pochino più veloce perché il mio tempo vedo che sta scadendo e certamente il piano triennale per tutte le pubbliche amministrazioni è qualche cosa che sarà da leggere, perciò io vi invito a farlo e non mi soffermo su testi che ritroverete sicuramente a vostra disposizione. Cittadinanza e competenze digitali a cosa ci devono aiutare? Ci devono aiutare a costruire un nuovo Cives, un nuovo tipo di cittadino, più consapevole, più desideroso, anche curioso di affrontare le novità della tecnologia perché indubbiamente con una popolazione anziana che abbiamo, non voglio dire cose ovvie a voi tutti note, è difficile fare crescere queste competenze digitali perché alle naturali resistenze alla novità, al cambiamento si aggiungono proprio difficoltà di tipo culturale, anagrafico che rendono difficile fare propria questa cultura. Anche in questo caso nell'azione 10 noi siamo presenti in una serie di azioni che qui vedete citate, coinvolgono l'Inps, Roma Capitale, il BAC e Union Camere e quindi su questo ripeto non mi soffermo. Sulle competenze, vi ho già detto, Agid ha emanato delle linee guida che stiamo cercando anche di capire come poter promuovere. La prima parte, come dicevo, è dedicata alle competenze di base e quindi dovrebbe essere oggetto di pratica per tutte le amministrazioni, penso a quelle che hanno prossimità col cittadino, i comuni, corsi per gli anziani, le scuole, corsi per i ragazzi. La parte specialistica riguarda invece la parte centrale, i profili delle professioni digitali e su questo dobbiamo lavorare per esempio per i prossimi concorsi, per reclutare i nuovi tipi di specialisti. La parte finale dell'e-leadership ci vede coinvolti perché noi immaginiamo che i cosiddetti RTD, cioè i responsabili per la transizione a digitale, potranno essere proprio tra le prime figure a dover essere dotate di queste competenze di leadership, che significa non solo competenze informatiche ma anche soft skill cosiddette capacità manageriali, capacità di coinvolgimento, di creatività, di essere dei dirigenti assolutamente adeguati a una società digitale in costante crescita. Qui di nuovo c'è un dettaglio sulle azioni attuali e sul nostro coinvolgimento nella normazione tecnica nella definizione degli standard. Io vi ringrazio per l'attenzione e rimango a vostra disposizione e come ho fatto ieri cercherò anche di rispondere nella chat a eventuali richieste di chiarimento, qui comunque c'è anche la mia mail in caso vi servisse. Grazie. Daniela, grazie mille, grazie a te. Due cose a proposito della chat, ci vedete illuminati in questo momento i due link che portano nel primo caso alla news pubblicata all'altro giorno nello sito di Agile che fa un'introduzione al piano triannale e in basso a una sezione approfondimenti con una serie di link utili per chi volesse approfondire i temi del piano. Le competenze digitali sono trattate sul sito di Agile di una sezione dedicata che è quella che vedete nell'ultimo link che vi ho postato in chat. Tutto questo per dirvi soprattutto rilancio la conclusione di Daniela sul soft skill e competenze digitali, torneranno nell'intervento di Valentina che ci aspetta subito dopo. Per rilanciare il fatto che lo dicevamo all'inizio nell'introduzione, lo ha detto Daniela nel suo intervento, non immaginate il piano OGP e il piano triennale come due binari diversi, in realtà sono due strategie che vanno nella stessa direzione e che hanno molti punti di contatto che si rilanciano a vicenda e mi veniva in mente anche il webinar che abbiamo fatto l'altro giorno con Gabriele Ciasullo, sui dati aperti, sul rilancio dei dati aperti della direttiva PSI e sul piano triennale, vedevamo come appunto ci sono nel piano triennale Agile, c'è un richiamo diretto all'azione di Open Government Partnership e viceversa. Daniela grazie moltissimo, grazie dal tuo intervento chiedo a Valentina, perfetto, di aprire il suo microfono e la sua webcam, eccola qui, qui ci sono le tue slide, Valentina. Grazie mille Gianfranco. Allora, durante questo breve intervento, la finalità che vorrei perseguire è quella di approfondire un pochino di più l'azione sulle competenze digitali che la funzione pubblica sta coordinando nell'ambito dell'action plan, ovviamente con il fondamentale contributo di Agile, oltre delle altre amministrazioni che hanno manifestato appunto la loro voglia a partecipare a questa azione, ovviamente sul fronte del forte coinvolgimento di Agile abbiamo già avuto modo di avere un importante spaccato fornito da Daniele Entravaia. Rispetto alla costruzione dell'azione sicuramente siamo molto contenti, diciamo, di come sono andati questi lavori preparatori perché effettivamente hanno consentito di creare un'azione che andasse incontro a tutti quelli che sono i bisogni essenziali di quelli che sono i protagonisti, vale a dire cittadini, impresi e dipendenti pubblici, di cui ovviamente lo sviluppo delle competenze digitali essenziali per la formazione di una società, un'economia digitale. E ovviamente lo siamo ancora più contenti visto che diciamo, già come richiamava Daniele Entravaia, il DESI 2018 non risituisce diciamo una visione particolarmente positiva rispetto al livello di competenze digitali e in generale capitale umano per quanto riguarda l'Italia. In particolare si rilevano estreme difficoltà sia sul fronte delle due categorie più critiche sul tema delle competenze, vale a dire anziani e persone inattive, che fino adesso non sono state particolarmente coinvolte in iniziative di rafforzamento delle competenze, pur sapendo che, pensiamo alle persone inattive, ovviamente un rafforzamento di queste competenze è essenziale per poter anche aprire delle opportunità sul mondo di lavoro. Ovviamente l'altra categoria critica è quella della pubblica amministrazione visto che è ormai ampiamente riconosciuto come la mancanza di competenze digitali specifiche rappresenta una delle principali barriere al ricorso a nuove tecnologie per migliorare i servizi offerti. Così come nel caso delle imprese, in particolare delle PMI, che rappresentano la caratteristica del settore imprenditoriale italiano, faticano ancora a ricorrere al digitale tanto per lo sviluppo del loro business quanto per la gestione dei rapporti con la FIA. A parte evidenziare come l'azione messa in campo provi ad indirizzare ciascuna di queste tre macro-categorie di target. Un altro aspetto rilevante è che le iniziative mirano a indirizzare, ovviamente in maniera estremamente varia, quattro ambiti di competenze che sono riconosciute chiave, che compongono il sistema delle competenze digitali. così come richiamava l'OSD già nel 2017 e sta continuando ad affermare in recenti rapporti oggetto di pubblicazione, ovviamente rientra anche in quello che è la strutturazione del piano triennale richiamato precedentemente. Valle a dire le competenze di base o di cittadinanza, di cui sicuramente il DICCOMP è l'espressione principale, quindi riacchiude le capacità di utilizzare le tecnologie per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione, ovviamente le competenze specialistiche che riguardano i professionisti ICT, le competenze di management e di leadership che sono fondamentali per cogliere le opportunità rappresentate dalla trasformazione digitale e promuovere l'adozione di percorsi di digitalizzazione tanto nel contesto pubblico quanto nel contesto privato. A queste si aggiungono le competenze complementari, vale a dire delle competenze specifiche che scaturiscono dai profondi cambiamenti che riguardano specifici contesti di lavoro dovuti appunto alla trasformazione digitale. Penso in particolare al contesto del pubblico impiego dove la trasformazione digitale assume una caratterizzazione molto specifica perché attiene all'adozione di strumenti che sono peculiari per il lavoro del dipendente pubblico, uno per tutti, tutto il sistema di gestione documentale e di gestione di protocollo ma è soltanto un esempio, quindi richiede delle competenze specifiche oltre al fatto, tornando al tema della pubblica amministrazione, come la digitalizzazione sia oggetto di una normazione particolarmente specifica che richiede degli adempimenti specifici che ovviamente a loro volta richiedono delle competenze specifiche. considerando, diciamo, queste due dimensioni, quindi il target indirizzato e l'ambito di competenze ho provato un po' a riorganizzare tutti quelli che sono gli impegni specifici che sono proposti appunto nel piano di azione OGP e che avrete modo poi di approfondire nel dettaglio a seguito del lancio della consultazione pubblica. In particolare il Comune di Roma e il MIBAC, quindi il Ministero per i beni culturali, hanno proposto degli impegni che attengono al rafforzamento delle competenze di base, quindi si rivolgono primariamente ai cittadini per diffondere appunto competenze digitali. Nel caso del Comune di Roma, attraverso la diffusione e il potenziamento dei punti Roma facili e le attività della scuola diffusa per la partecipazione alla cittadinanza digitale. Mentre nel caso del MIBAC parliamo del progetto Fabbrica delle Idee, che vede un forte ruolo da parte delle biblioteche pubbliche e in particolare della biblioteca di Potenza per la produzione di servizi e di contenuti digitali di varia natura destinati appunto alla popolazione. Union Camere ovviamente per la sua natura si rivolge invece alle imprese e quindi propone all'interno del piano un impegno specifico che in qualche modo ha confine tra competenze specialistiche e competenze di management e di leadership. Infatti è impegnato nella definizione di una norma tecnica che descriva quelle che sono le competenze del manager dell'innovazione digitale, ovvero di una figura che dovrebbe promuovere e supportare le imprese nel processo di transizione digitale e al contempo lavora all'attivazione di un percorso di certificazione di tali competenze. Andando invece più nello specifico in un'attività che vede come non solo coordinatore ma come parte attiva il dipartimento della funzione pubblica, con il progetto competenze digitali per la PIA ovviamente si concentra su quelle che abbiamo definite competenze complementari, quindi competenze specifiche del contesto di lavoro nel quale appunto si trovano ad operare i dipendenti pubblici attraverso il lancio di una piattaforma ovviamente basata sul web per l'attivazione di meccanismi tanto di autoverifica delle conoscenze e capacità possedute in ambito digitale da parte dei dipendenti pubblici finalizzata all'indirizzamento verso percorsi formativi personalizzati volti proprio a intervenire sulle lacune di conoscenza che sono state riscontrate. Questa iniziativa rientra in qualche modo anche nell'impegno di INPS nel Comune di Roma che hanno appunto manifestato l'impegno di voler sperimentare la piattaforma messa in campo dal dipartimento come prima attività nella definizione di un percorso di formazione ovviamente specifico per ciascuna delle due amministrazioni. Andando un pochino più nel dettaglio diciamo nel progetto competenze digitali per la FIA volevo un po' darvi qualche elemento aggiuntivo. Ora è sicuramente stato già oggetto di due webinar diciamo nel periodo novembre e dicembre dedicato proprio in relazione al lancio della consultazione pubblica su Sillabus quindi vorrei riprendere brevemente quelli che sono i tratti essenziali di questa iniziativa e dare anche un'evidenza di diciamo del punto in cui siamo a questo momento e di qual è la timeline relativa agli impegni che sono stati indicati nel piano. Il progetto è un progetto finanziato nell'ambito del front governance e capacità istituzionale ovviamente ha come finalità quella di rafforzare le competenze digitali appunto dei dipendenti pubblici creando diciamo come diceva come anticipavo prima realizzando quello che è il percorso classico canonico che dovrebbe essere intrapreso nel momento in cui si pianifica la formazione vale a dire che si individuano in primo luogo quelle che sono le competenze e le conoscenze nelle disponibilità del personale si rilevano quindi i gap quindi le lacune di conoscenze e sulla base di queste vengono costruite dei percorsi formativi altamente personalizzati quindi mirati rispetto alla lacuna riscontrata. Ovviamente l'attività di autorilevazione delle conoscenze oltre a essere strumentale l'attivazione di percorsi di formazione diventa un grande patrimonio informativo per la pubblica amministrazione perché è supporto della mappatura delle competenze e può diventare un elemento chiave anche nella rilevazione dei fabbisogni funzionali. I componenti del progetto, il primo componente è sicuramente il syllabus richiamato anche sul titolo del mio intervento vale a dire il documento che descrive le conoscenze e le abilità che dovrebbe possedere un dipendente pubblico per poter agilmente lavorare in una pubblica amministrazione sempre più digitalizzata e al contempo avere un approccio consapevole anche e proattivo nel percorso di trasformazione digitale. Il syllabus, dicevamo poc'anzi e l'anticipava anche Gianfranco nell'introduzione, è stato oggetto di una consultazione pubblica nel periodo intercorrente tra ottobre e dicembre. Consultazione che è andata veramente molto bene, quindi sono arrivati oltre 200 commenti proprio a dimostrazione del particolare interesse che c'è rispetto al tema delle competenze digitali nell'ambito pubblico e ovviamente tutti questi contributi sono al momento a vaglio estremamente accurato per arrivare alla costruzione della versione finale del syllabus che verrà rilasciata a breve così come il report di dettaglio della consultazione. Il syllabus è di fatto lo strumento di riferimento in primo luogo per la costruzione del sistema di autoverifica che è appunto su questo descrittore di conoscenze e abilità che verranno costruite le domande che saranno oggetto del sistema di test di autovalutazione ma è anche lo strumento di riferimento per la costruzione dei corsi formativi che verranno poi proposti ai dipendenti pubblici che ovviamente decideranno di partecipare insieme alle loro amministrazioni a questa iniziativa. Infatti i due componenti ulteriori oltre al syllabus sono proprio il sistema di autoverifica delle competenze quindi basato su un test molto semplice come struttura quindi basato su domande a risposta multipla a cui appunto si potranno sottoporre i dipendenti pubblici e al termine del percorso di autovalutazione verrà suggerito loro una serie di percorsi formativi che potrebbero essere adeguati a colmare il gap di conoscenza che è stato rilevato. Quindi se una persona ha un livello di conoscenza di base su un determinato area di competenza le verrà suggerito uno o più corsi che saranno funzionali al passaggio di livello di padronanza quindi di passare dal livello basso al livello intermedio al livello avanzato rispetto a quella determinata area di competenza. I corsi formativi saranno organizzati in un catalogo della formazione che verrà di fatto gestito dal format che è l'importante altra colonna diciamo di questo progetto che di fatto creerà un meccanismo in qualche modo di accreditamento dei corsi quindi verranno inseriti al catalogo quei corsi che proposti da amministrazione ma proposti anche da soggetti privati che risultano coerenti con quelle che sono le caratteristiche del syllabus in primis e anche che risponderanno a un'altra serie di rettistici che verranno appunto elaborati in un'apposita linea. Al termine della formazione per il dipendente sarà poi possibile ripetere il test in modo tale da verificare se la lacuna che aveva riscontrata è stata effettivamente colmata oppure no. Giusto rapidamente i contenuti del syllabus che sono stati confermati sostanzialmente anche dalla consultazione pubblica il syllabus si articola in cinque aree di competenza quattro che attengono strettamente a quella che è l'operatività del dipendente pubblico nel suo quotidiano quindi parliamo di dati, informazioni e aggiunzione dei documenti informatici ma anche la comunicazione e condivisione tanto con altre amministrazioni quanto con i cittadini e le imprese il tema della sicurezza rispetto a cui c'è sempre una forte sensibilità e preoccupazione anche vista la complessità della materia pensiamo alle LGBTR e l'ultima è quella relativa ai servizi online quindi elementi chiave sono sicuramente la conoscenza del concetto di identità digitali e una serie di aspetti legati all'erogazione dei servizi online a parte queste quattro aree come dicevo legate all'operatività del dipendente pubblico vi è un'ultima area della trasformazione digitale che mira in qualche modo a identificare le competenze, le conoscenze che dovrebbe avere un cittadino rispetto al stato un dipendente pubblico rispetto al contesto nel quale si sta muovendo quindi quali sono le macro strategie rispetto al digitale e quali sono diciamo quelle che le innovazioni che potrebbe trovarsi a dover gestire di lì a breve quindi pensiamo a tutte le prospettive delle tecnologie attualmente emergenti quindi big data piuttosto che intelligenza artificiale piuttosto che internet quest'altra slide invece riprende un pochino lo schema della piattaforma quindi sintetizza un po' quelli che sono i flussi informativi per cui il dipendente pubblico effettua l'assessment sulla base di un test costruito a partire dicevamo dal syllabus dal syllabus deriva anche il catalogo formativo che è l'elemento di raccordo con i formatori infatti i formatori elaboreranno delle schede di corso a cui andranno a completare il catalogo formativo e al contempo scambieranno con la piattaforma una serie di informazioni da un lato la lista dei dipendenti che hanno completato l'assessment e sono interessati a sostenere i corsi di formazione e dall'altro la lista diciamo dei dipendenti che hanno concluso il corso formativo e quindi possono essere abilitati al test e post formazione questo perché diciamo la piattaforma per come è costituita non prevede al suo interno l'erogazione dei corsi di learning ma l'interazione, l'interoperabilità con le piattaforme dei singoli formatori che erogaranno appunto presso le loro piattaforme appunto la formazione stessa un altro elemento importante sono gli analytics quindi da l'acquisizione di diciamo di tutti gli esiti dei percorsi di assessment verranno elaborate diciamo delle statistiche che a vari livelli di dettaglio verranno rese disponibili tanto al singolo dipendente per poter fare anche delle sue attività di benchmarking e valutazione tanto all'amministrazione tanto ai soggetti pubblici ovviamente per ogni livello di apertura sarà affortunamente valutato anche il grado di tutela della privacy necessaria un ultimo elemento che la piattaforma nasce per essere multisillabus vale a dire può essere utilizzata per una vostra costituita per poter usarla appunto per altre sillabus quindi per altri ambiti di competenza diventando uno strumento poi a supporto delle amministrazioni che vogliano attivare i percorsi di formazione strutturati in questo modo e quindi che vogliano attivare anche i percorsi di assessment su contenuti diversi da quelli delle competenze digitali giusto rapidamente visto che ho terminato diciamo il tempo a disposizione la timeline rispetto agli impiegni di OGP sul fronte di competenza digitale per la PIA a giugno di quest'anno verrà pubblicato il sito web di progetto che è anche una demo del funzionamento della piattaforma e verrà anche avviata la sperimentazione su almeno tre amministrazioni abbiamo visto IMSS e Comune di Roma ma hanno manifestato anche l'interesse a partecipare anche il MIBAC e l'INAI nell'anno successivo invece dopo scompetata la fase di sperimentazione la piattaforma verrà poi resa disponibile a tutte le amministrazioni e ovviamente con l'alimentare della piattaforma verranno anche resi disponibili in formato open i risultati aggregati dell'attività di assessment vedo una domanda se ci sarà un'attestazione finale per il syllabus allora il syllabus è di fatto il documento descrittivo delle competenze l'attestazione potrebbe essere legata ai singoli corsi formativi che però verrà rilasciata dal singolo formatore quello che attesterà in qualche modo la piattaforma è soltanto il livello di competenze sia in fase di assessment pre-formazione che in fase di post-formazione vi ringrazio perfetto Valentina grazie mille sì credo che fosse questo il senso della domanda peraltro ricordo che quando avevamo fatto il webinar insieme a te Elio Gullo Elio aveva usato il parallelo della playstation che mi era piaciuto un sacco cioè immaginare la piattaforma come se fosse una playstation dove a seconda dell'utente dell'esigenza dell'utente la piattaforma resta la stessa però cambiano i giochi e quindi cambia il genere però i diversi syllabus su temi diversi penso a non lasciare fatti piuttosto che altro assolutamente sì possono essere poi costruiti per cose anche per temi diversi a me l'esempio della playstation mi era piaciuto molto per ragioni extracurriculari grazie mille Valentina grazie ancora grazie due volte per oggi e per lo scorso webinar in cui c'hai sempre dovuto compagnia sul tema dei dati aperti e della trasparenza chiedo a Daniela di aprire il suo microfono la sua webcam ci cordiamo bene perché devo chiudere il mio contestualmente Daniela qui vi direi i tuoi slide e quando vuoi nel frattempo rilancio Valentina e complimenti stiamo arrivando di aciato sulla tua esposizione grazie ancora vi informo che abbiamo abbondattamente superato i 300 partecipanti siete a 330 ci fa particolarmente piacere valutare la vostra presenza dal numero di persone che si sono iscritte al webinar abbiamo abbondantemente superato la metà Daniela ti chiederei di aprire il microfono e la webcam se ok non so se vabbè Daniela forse ha qualche problema non so se è il caso di farle uno squillo nel frattempo io posso prendere un po' di tempo dicendovi che l'intervento conclusivo che accennavo all'inizio della presentazione è di Daniela Vellutino che fa parte insieme a tutta un'altra serie di soggetti dell'Open Government Forum che forse è uno degli aspetti più interessanti della metodologia di Open Government Forum c'è l'idea che da un lato le amministrazioni propongano delle lezioni orientate mi sentite? questa volta si sente anche il rumore ambientale sì ti sentiamo vai pure io cerco di essere brevissima buongiorno a tutti sono Daniela Vellutino mi occupo sono docente di comunicazione pubblica e linguaggio istituzionale all'università di Salerno che è una laurea magistrale del gruppo di scienze della comunicazione partecipo all'Open Government Forum partecipiamo all'Open Government Forum come laboratorio didattico per la comunicazione pubblica che faccio con gli studenti della mia laurea magistrale perché pensiamo che il quarto piano d'azione dell'Open Government Forum possa essere un'opportunità per rendere le pubbliche amministrazioni italiane effettivamente aperte ma soprattutto condivise vale a dire che non vogliamo semplicemente osservare oppure fare una forma di monitoraggio come abbiamo fatto nello scorso piano d'azione ma vogliamo essere una parte più attiva reattiva e proattiva quindi vogliamo entrare anche nella possibilità di coprogettare e corealizzare i progetti che verranno poi diventeranno esecutivi a seguito della consultazione pubblica per questo è molto importante la consultazione pubblica che sarà lanciata domani perché poi come ho scelto di partecipare al tavolo di servizi pubblici qua con un refuso servizi pubblici digitali e competenze digitali preferisco che ci sia questa aggettivazione di servizi pubblici digitali proprio per sottolineare che questi sono servizi che sono rivolti al pubblico come hanno già detto come ha già detto la dottorista in Cavaia sono state presentate quattro proposte sull'area che riguarda proprio i servizi pubblici digitali che coinvolgono l'Agid stesso il Dipartimento della Funzione Pubblica l'ANAC il MIUR e l'Agenzia delle Entrate e invece sono state presentate sei proposte per l'area di competenze digitali sempre che riguardano l'Agid il MIUR il Sistema Canerale e anche un comune che è il comune di Genova che si propone di un progetto specifico però perché poi per me è molto importante ed è anche molto importante per partecipare gli studenti a questo percorso perché di fatto io formo comunicatori pubblici e in questa pubblica amministrazione aperta la comunicazione e l'accessibilità ai servizi è particolarmente importante per questa pubblica amministrazione sono necessarie appunto delle figure professionali che sappiano comunicare utilizzando mezzi e strumenti ma utilizzando il nostro primo mezzo di comunicazione che è effettivamente la lingua la lingua italiana quindi comunicatori pubblici capaci di usare la lingua italiana per farsi capire da un maggior numero di persone e di dispositivi digitali nell'era del web 3.0 quella dei servizi pubblici digitali quindi i comunicatori pubblici devono avere delle nuove competenze quelli che dovranno entrare nella pubblica amministrazione o quelli che dovranno come dire ricostruire il proprio il proprio sapere della pubblica amministrazione cioè devono essere capaci di gestire dei dati aperti in formato aperto dei documenti in XML schema capire quali sono i termini istituzionali da inserire negli schemi di metadatazione per creare dei contenuti link ed open data e quali sono i termini da glossare per un cittadino che vuole conoscere il termine specialistico oppure da semplificare in questo modo si creano dei servizi accessibili da diversi dispositivi digitali e facilmente usabili dal maggior numero di cittadini nuove competenze per nuovi comunicatori pubblici che usano il codice della lingua per ottimizzare anche il codice digitale con l'Agid Agid ha già sviluppato molti progetti confesso che il piano triennale non l'ho ancora ben letto l'ho guardato semplicemente perché è uscito due giorni fa molti di questi progetti sono molto interessanti il catalogo dei servizi ontopia e il mio personale contributo e quello che daranno i miei studenti che partecipano appunto al laboratorio diritto di accesso civico sarà diffondere il nostro metodo di lavoro sulla comunicazione pubblica che integra competenze di linguistica quindi linguistiche a competenze informatiche e perché vogliamo collaborare attivamente a questo sviluppo dei servizi pubblici digitali gli uffici di comunicazione devono appunto essere centrali in questa pubblica amministrazione digitale proprio perché devono assicurare il diritto di accesso civico ai dati pubblici ai documenti e alle informazioni istituzionali devono saper gestire i processi di accontabilità e la partecipazione civica proprio perché hanno bisogno di competenze di quelle che sono le richieste e le esperienze degli utenti possono dare dei suggerimenti validi per la creazione di servizi digitali pubblici facilmente usabili la legge 150 che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche è troppo spesso inapplicata e con alcune associazioni dell'open government forum vi annuncio che staremo proprio un poia per richiedere i dati di monitoraggio sulla sua applicazione così come è stato disposto dalla direttiva Frattini del 2002 proprio perché vogliamo capire chi in questo momento quali sono le pubbliche amministrazioni che gestiscono l'attività di comunicazione e informazione secondo le direttive della legge e in che modo innovare la legge stessa quindi ricordo un po' chi non conosce bene la materia che il dipartimento della funzione pubblica in collaborazione proprio con le associazioni professionali del mondo dell'informazione annualmente dovrebbe monitorare la legge 150 perché è importante questa legge è importante perché effettivamente se vogliamo fare servizi pubblici digitali usabili c'è bisogno anche e soprattutto di una comunicazione e di un'informazione che diano al cittadino la conoscenza di questi servizi vi ringrazio credo di aver utilizzato il mio tempo e comunque non ho messo una slide che lancia quello che è l'attività che faremo venerdì proprio sulla legge 150 e soprattutto sul giornalismo investigativo sul data journalism e l'attività che facciamo di restituzione ai comuni dei dati sui rifiuti e l'iniziativa si chiama chi ha dato ha dato semmai le integro a queste slide proprio perché mi farebbe piacere diffondere quanto più possibile la metodologia di lavoro per la comunicazione pubblica vi ringrazio tutti e non ho feedback ci siete? Daniela io cercavo di non aprire il mio microfono perché c'è questo strano ritorno in cuffia quindi ti chiederei ti ringrazio ti ringrazio per l'intervento fra l'altro sei stata fantastica riuscire a rispettare i tempi siamo andati un po' lunghi con le presentazioni precedenti e gli interventi precedenti grazie mille e niente io volevo approfittare della conclusione di questo ciclo di 4 webinar dedicato al piano GP per ringraziare davvero di cuore tutti i relatori tra l'altro sono stati gentilissimi nel senso che li abbiamo avvisati tutti all'ultimo momento è la migliore tradizione tutti sono usciti nonostante la settimana di amministrazione aperta immaginate quanto sia caotico organizzare le rispettive agende sono riusciti tutti a ritrovare il tempo necessario per riuscire a fare questi interventi quindi davvero grazie a tutti in particolare per oggi grazie a Daniele Travaia grazie due volte a Valentina Albano che è stata in nostra compagnia cioè ci ha fatto compagnia oggi e martedì scorso sul tema dei reti aperti grazie a Daniele Vellutino grazie a Stefano Pizzicannella che per il Dipartimento della Funzione Pubblica si prende cura di Open Government Partnership in Italia più o meno da quando è iniziata quindi dagli albori del primo piano GP italiano senza di lui probabilmente non saremmo riusciti a chiudere così rapidamente i programmi di questi webinar ci spiace che a sua volta era molto incasinato non è riuscito ad affacciarsi però a Stefano va il nostro grazie per il supporto dietro le quinte e l'organizzazione di tutta questa cosa alcune informazioni domani parte la consultazione sul piano davvero è la cosa su cui mi piacerebbe cercare di catalizzare la vostra attenzione tutto quello che è stato prodotto in questi 4 giorni nell'ambito di questi 4 webinar registrazioni integrali e slide dei nostri relatori lo trovate su Eventi.pa certamente sul canale youtube l'appia che si vede il canale del format ci trovate anche una playlist che ha fatto un Gianluca finito che è stato in regia per tutti i webinar di questi giorni e per tutta la caterva di webinar che il format ha tirato su durante la sezione dell'amministrazione aperta ha fatto una playlist delicata a questi 4 webinar quindi da questo pomeriggio li trovate tutti e 4 ed è un unico luogo dove trovate tutto quello che è tutte le 4 ore di racconto sull'imminente prossimo piano GP che parte domani grazie grazie soprattutto a tutti voi oggi eravate abbondantemente abbiamo abbondantemente superato i 300 partecipanti come quasi è successo più o meno tutte queste 4 mattine nonostante l'orario che fosse proprio comodissimo insomma dalle 10 alle 11 è un orario nuovo solitamente questi va bene li facciamo da mezzogiorno e siete stati tanti soprattutto da quello che ci posso capire le stesse persone che hanno partecipato al primo hanno seguito anche il secondo il terzo e il quarto e ci fa piacere un minimo di fedeltà rispetto a questa iniziativa da parte dei nostri partecipanti e dei nostri utenti per qualunque cosa vi rimando all'account twitter di OGP per restare informati sul piano per restare informati sulla sezione dell'amministrazione aperta sul premio Open Government Partnership e sul piano che vi ricordo ancora una volta fino alla noia parte domani con la consultazione pubblica tutto quello che può essere utile rispetto alle iniziative di Open Government Partnership ovviamente oltre all'account twitter lo trovate sul sito opengo.it grazie ancora a tutti voi rilancio con l'ultima riga di chat di Alessandra Caso abbiamo bisogno di informazioni così e ci fa piacere poter essere d'aiuto a tutti i dipendenti pubblici e non solo insomma a tutti gli interessati a questi temi grazie mille e alla